Sono in nuovo vicino, avrebbe un po' di sale? Chef Barbieri, si accomodi. C'è la Giga Network Fibra. Vuole una mano a preparare? Carissimo! No! Simpatico il vicino, ma quando se ne va? Ragazzi, c'è anche mia sorella a cena. Con Vodafone tutti vorranno essere di casa. Con la Giga Network Fibra, i Vodafone TV e Now TV, con gli so più amati e le serie TV di Sky. Tutto a 27,90 euro. Vieni nei nostri negozi o su Vodafone.it